Idee per il Mezzogiorno e la Calabria, tema di un confronto all'interno del Partito Democratico per iniziativa del cavogruppo alla Regione Sandro Principe. Il servizio è di Pasqualino Pandullo. Se è vero che il Mezzogiorno sta morendo è altrettanto vero che di Mezzogiorno ha bisogno tutto il Paese, perché il Sud è il mercato del 70% dei prodotti del Nord. Per questo occorre amministrare bene e scommettere sulla cultura e sui giovani. Rilanciare il Sud significa far ripartire l'Italia. Ha ruotato attorno a queste tesi l'incontro organizzato a Rende dal capogruppo del PD alla Regione Sandro Principe, in un momento di grande confronto all'interno di un partito che entra nella fase congressuale. Cinque ore di dibattito tra i relatori e anche il Presidente della Regione Basilicata Vito De Filippo per mettere a fuoco contenuti su argomenti cardine, in primis imprenditoria e cultura, che entreranno a far parte di una relazione base di un prossimo incontro. Il presupposto è chiaro, il PD non può smarrire l'idea di essere un partito con una cultura di governo. E' dei concrete che pensiamo di attuare a Roma perché è prossimo il successo, a mio avviso, anche dell'alternativa in Italia e dei concrete che proporremo intanto in Calabria e che speriamo poi di poter portare avanti come partito di governo negli enti locali calabresi e anche in Regione.